Entro il 2023 a Pescara non ci saranno più i cassonetti dei rifiuti. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale che nel giro di due anni intende ampliare la raccolta porta a porta e realizzare nuove isole ecologiche. E su questo stiamo lavorando assiduamente, lo avrete anche già visto, per arrivare intanto alla percentuale di legge consentita sul rifiuto, che è quella del 65%, che ci auguriamo di poter raggiungere nell'arco di un paio d'anni, comunque entro il 2023, ma in parallelo l'eliminazione di tutti i cassoni stradali, consentendo così con isole ecologiche e con porta a porta spinti una raccolta differenziata, puntuale e controllata. Oggi intanto l'esercito di immondizia lascia Pescara. L'opera Trash People dell'artista tedesco Aschult era stata installata nel cuore del capoluogo adriatico dopo aver fatto tappa nei luoghi più suggestivi del mondo. Un'occasione per riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente, tema a cui il Comune intende avvicinare i più giovani andando nelle scuole a settembre con l'Eco School. Pescara punta sul riciclo, ha detto l'assessore del Trecco. Perché stiamo lavorando su un impianto anaerobico, che poi è il principale rifiuto tra i rifiuti differenziati, che potrà consentire di avere sia del compost ma anche del biogas. Quindi un biodigestore di ultima generazione a tutti gli effetti, come degli impianti che sono praticamente quasi pronti per quanto riguarda il multimateriale, plastica, metalli ed altro nella zona di Alanno e di Loreto. Su questo si sta abbinando anche una seconda ricicleria, perché chiaramente una volta preso il rifiuto ci deve essere anche il posto dove fermarlo e dove anche i cittadini possono andare a portare il proprio rifiuto, per poi andare direttamente agli impianti. Quindi noi ci auguriamo che in questo modo i cittadini comincino a pensare in maniera diversa. Noi chiediamo non solo un rifiuto ridotto, ma chiediamo anche un decoro della città. E su questo stiamo lavorando assiduamente, lo avrete anche già visto, per arrivare intanto alla percentuale di legge consentita sul rifiuto, che è quella del 65%, che ci auguriamo di poter raggiungere nell'arco di un paio d'anni, comunque entro il 2023. Ma in parallelo l'eliminazione di tutti i cassoni stradali, consentendo così con isole ecologiche e con porta a porta spinti una raccolta differenziata, puntuale e controllata.